ruba pippo è qua vai 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 prendilo 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 qui e qui e qui prendilo prendilo scappa 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 adesso adesso andiamo venite venite no fermati e qua no ma vieni possiamo lanciare possiamo lanciarlo da un palazzo venite andiamo 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 seguitemi pago io ma la mongolfiere si la mongolfiere poi andremo sopra una cosa e potremo lanciarlo andiamo 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 no 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 ma non abbiamo i pensieri perché questo gioco in corso è perché noi ma semmo noi il problema come ha senso se una persona ti rapisce con questo come è stato neanche 13 secondi parte va beh vai vai si vedi ti come si fanno le emot clicchi su te stesso io posso prenderlo no no fermo quando abbiamo lanciato prendi il bambino ma ce lo possiamo passare prendi il bambino e non hai nita family prendi il bambino stiamo portendo vai adesso lo lanciamo da un palazzo andiamo ok c'eri tu vai mi è venuta paura perché abbiamo iniziato sono passati dieci minuti abbiamo già rapito un bambino siamo per far morire vai stai capendo cosa sta succedendo no abbiamo rubato stiamo rubendo un bambino stiamo lanciato da un palazzo andiamo 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 missione segreta ok vai adesso qua lo lanciate vai lancialo lancialo come si fa lancialo baby ah è